I risultati si vedono non solo sul piano fisico, ma anche sul piano spirituale. Non solo sviluppate il vostro corpo allenandovi così, ma anche la vostra mente si sviluppa. E tutto viene messo insieme. Non abbiamo uno scopo di uccidere qualcuno, ma è importante allenarci per sapere che se per caso devo uccidere qualcuno, so come farlo. Quindi noi non dobbiamo volere uccidere qualcuno, ma sappiamo che se vogliamo possiamo. Quindi anche in una situazione di difesa, sei molto calmo, e non dobbiamo solo fantasticare su questo caso, dobbiamo impararle proprio realmente. Inoltre imparando questo, andiamo a scoprire chi siamo veramente. Perché purtroppo la nostra educazione, il nostro processo educativo non prevede questo tipo di scoperta di noi stessi. Quello che noi sappiamo, normalmente una persona di se stessa sa l'un per cento dell'un per cento. E anche sapendo solo quell'un per cento dell'un per cento, la maggior parte delle persone si accontenta di sapere così poco e va bene. Anche perché non sanno di sapere solo l'un per cento dell'un per cento, quindi pensano di sapere già tutto e gli va bene così. Quindi adesso ad esempio loro vanno in Russia, ovunque ci sono ristoranti che vendono la pizza. Anche ci sono pasticcerie, stanno aprendo le pasticcerie, poi arrivi in Italia e poi torni in Russia e dici no, non posso mangiarla a sta pizza. Anche la pasticceria sembrano fisicamente simili le pastine, però sono completamente diversi i sapori, cioè sono più buoni. Dico anche loro che vengono da Russia e si vengono a mangiare in pasticceria, appaiono uguali ma il gusto è molto diverso. Perché se stai sempre in Russia, come esempio, pensi che quella sia la verità, dici questo è il sapore della pizza. Non riesce, poi invece vieni in Italia e scopri quella vera e dopo è difficile tornare in Italia. indietro alla tua conoscenza precedente. Sempre, se un'okiaido scopri qualcosa, non è facile andare in Italia. Lui dice almeno per me così, quando ho scoperto determinate cose attraverso oikiaido, poi è stato difficile tornare indietro ad accontentarmi di quello che sapevo prima. Perché ha capito che c'è qualcosa di più, di diverso e di migliore da scoprire. Ecco che adesso che ha scoperto queste differenze è difficile per lui tornare a studiare i kata regolari del kata di Okinawa, eccetera. Grazie. 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 Grazie.